Ciao a tutti ragazzi qua Dexta, oggi sono qui con questo nuovo video su GT5 Online Con nuove care stante, oggi abbiamo un trial parkour con i caddi Qualcosa di veramente assurdo, siamo già partiti Allora abbiamo tutti i caddi, si nessuno ha citato, nessuno ha preso altri veicoli Strada sbarrata, mamma mia guardate qui Ho bloccato tutto Ragazzi Vediamo di muoverci Quella sembra tipo una ghigliottina questo oggetto qui ragazzi Allora c'è un problema, il mio caddi ragazzi non va più avanti Nel senso che mi avranno distrutto la ruotina e di conseguenza non va più Allora vediamo, vediamo un po' se riesco a girarmi Il problema è che se ricompaio è finita, cioè se ricompaio non passerò mai più Vediamo un po', niente c'è la ghigliottina Vai vai parti 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 ragazzi va Ragazzi si muove Ragazzi si muove Va bene qui si bugga tutto Aspetta un attimo perché forse noi ce la facciamo ad andare Vediamo, entra Vai passa, 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 passa Dai fatemi, fatemi andare Ci sono questi ragazzi che non mi danno la possibilità di farmi girare Vai passa Ok è andata, è andata Vai guardate un po' come si è distrutto Io mai l'ho visto il caddy così Il caddy ridotto così su GTA Io ragazzi non l'ho mai visto Cioè guardate qui demolito completamente No no, sta arrivando quello Aspetta, non voglio morire Arriviamo al checkpoint tranquillamente Ragazzi è difficile da guidare Anche perché è tutto già completamente disintegrato Voliamo giù, arriva il checkpoint Vai ce l'ho, perfetto Allora io continuo col caddy disintegrato Quello è morto, va bene Allora andiamo qui alla grande Vai super Bellissimo ragazzi Mamma mia Spirale col caddy distrutto e checkpoint mancato Vabbè ovviamente ci stava Non la potevo fare ragazzi Era innaturale arrivare al checkpoint Senza sbagliare nulla Quello è volato fuori Vai 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 che ce la facciamo Vai che ce la facciamo Perché non va Caddy bene Niente ragazzi Incredibile Cioè il caddy distrutto va Questo qui niente Allora mi serve un po' di rincorsi in più Vai ripartiamo Siamo in quarta posizione Intanto lì ci sarà il macello Tutti bloccati Mamma mia Fortunatamente ragazzi Mi sono convinto a non A non ricomparire subito Perché altrimenti Sarebbe finita Male Forse non ce l'avrei fatta Ad andare avanti Anche perché la gara è da punto a punto Non ci sono giri Quindi di conseguenza Insomma Quando già concludono Un certo numero di giocatori Poi parte il tempo E la gara poi finisce Allora vediamo di superare Queste cunette Veramente Semplicissimo Andiamo ora col turbo Piccole rampe Ok sono passato Dentro al vagone Anche ora Prendiamo qui il checkpoint Evitiamo i tubi dinamici Qualcuno li ha colpiti Però li ho superati Vai senza problemi Andiamo Quelli non li ho colpiti In realtà però Sono caduti lo stesso Curva Ragazzi vi giuro Che ho girato Vi giuro Che ho girato Dall'inizio Io giravo dall'inizio Ma il cad di niente Se ne è andato fuori Vabbè questo è perché Andava troppo veloce Per Per le routine che ha Vai Arriva il checkpoint Ok ragazzi C'è stato il rallentamento Allora qui abbiamo una zona Uuuu Non l'ho visto Non l'ho visto Abbiamo un passaggio particolare Va bene Vai Ci sto Calma 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 accelera Andiamo qui Nel rallentamento Ragazzi Che passaggi Che passaggi incredibili Vai Continua Ok Perfetto Aspettiamo ora Quest'altra Piattaforma Mobile Velocità Ok Guarda Quello cosa stava facendo Cioè Stava così ragazzi Per colpirmi Qui Mi sa che noi non ce la facciamo Vero? Niente da fare Ricompariamo ragazzi Cioè c'era quello che stava Quasi per colpirmi Insomma Per poco Per poco Veramente Non ho mancato il checkpoint Allora qui abbiamo dei problemi Però secondo me Qui abbiamo dei problemi seri Velocità Vai Turbo 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 Entra nel tubo Non fare scherzi Ok Ce l'ho checkpoint preso Va bene Qui cosa abbiamo? Delle scatole Non lo so Altro passaggio ragazzi Vai No cos'è Mi hanno spinto indietro No Se l'è andato giù Dove se l'è andato Ragazzi Quello è volato fuori No fantastico Fantastico ragazzi Quello cercava di sbarrarmi la strada Eh ma qui Ma il checkpoint Fatemi capire È suo Ragazzi C'è qualcosa di strano qui Perché Non andiamo avanti Io sono in prima posizione Però non si riesce ad andare Per quello motivo Accelera Ragazzi Il caddi non va Vabbè Facciamo una cosa Sgomma Ok Aspetta che forse io Forse ragazzi In qualche modo No niente Allora c'è il turbo Da prendere Alla perfezione Ecco questo è il problema Ricompariamo ragazzi Non c'è Non c'è altro modo Allora bisogna entrare lì E prendere il turbo Alla perfezione Però ovviamente Devo andare quando non c'è nessuno Vediamo se questo si muove Vai Vado pure io No Perché si è bloccato Cazzo vai vai Muoviti 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 Il checkpoint è lì Vai in retromarcia Di brutto Vai retro Non va ragazzi Proviamo ora A velocità così Curva curva No niente Vabbè è lentissimo Non c'è niente da fare Ricompariamo Niente si deve fare questa zona qui Senza blocchi E cose del genere Senza ragazzi ostacoli Insomma Vai Velocità 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 Ok andata Andata Va bene era facile Solo che all'inizio ovviamente Ho incontrato tutti E quindi Abbiamo perso un po' di tempo Allora ora Dobbiamo andare C'è il checkpoint lì Ok Va bene Dobbiamo farci Cos'è No fantastico Vediamo un po' Vediamo un po' Ragazzi scivolo Guardate qui scivolo col tettuccio No impressionante Impressionante ragazzi Lo scivolo Col tettuccio del caddy Ma io veramente Ragazzi io non so che cosa dire Cioè dopo di questa Veramente ho visto tutto Su GTA Cerchè Questa cosa qui ancora io non l'avevo vista E posso garantirvi che dopo di questo Ho visto veramente tutto Su GTA No Qualcosa di assurdo Cioè i creatori Che cosa si sono fumati Prima di Di andare a fare delle cose del genere Allora Vai indietro Come sono rimasto Non si sa Come sono rimasto lì ragazzi Non si sa Questo C'è rimasto fottuto Io cado No non è vero Dai cadi Cadi Ragazzi siamo rimasti tutti bloccati Dovrei passare lì Aspettiamo che arriva l'altro Magari mi spinge E ce la faccio Vediamo Vai 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 Per poco Vai compagno Una bella spinta Una bella spinta Ragazzi non va Perché Niente non va Non so per quale motivo Ma Qui abbiamo dei seri problemi Perché Purtroppo i caddi Sono bloccati Allora vediamo sgommando Facendo una bella sgommata No niente Ricompariamo Qui c'è un botto di gente Allora forse Dobbiamo fare qualche altra cosa Ragazzi Forse bisogna Non so Ci dobbiamo incastrare Da qualche altra parte Secondo me Perché Non è Non è normale Quel passaggio Allora Vai piano Occhio Ho preso l'ostacolo Che forse È una cosa Niente Stavo dicendo buona Ma in realtà Siamo andati giù Niente Dobbiamo trovare un passaggio Un qualcosa Allora Vai 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 Qui c'è il rallentamento Perfetto Piano 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 Ok Allora Devo entrare Credo nella prima porta Non buttarmi giù Ok Velocità Perfetto Qui ci sono No frena 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 Non andare così Allora Ragazzi io devo entrare Mi sa in questa porta In un modo particolare Ovvero così E poi teoricamente dovrei cadere giù Con la parte posteriore Però il problema è che No 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 Vediamo Aspetta un attimo Gira qui No via dalle palle Togliti No ragazzi Quello non mi ha fatto prendere la salita bene Vai salita Cadi giù Niente Mi sa che mi sono bloccato di nuovo Ma che Cioè questa parte Non si può superare E vedete Quello sta per cadere Quello sta per cadere Ma è rimasto lo stesso bloccato E allora Non lo so Non lo so ragazzi Non ci sono parole Cioè quello era arrivato giù Ma alla fine è rimasto bloccato Non lo so Niente Vedete Non si riesce Siamo completamente bloccati Vai che forse passo Vai 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 Ragazzi siamo veramente un passo Intanto i giocatori si distruggono Tre di loro Sono un passo dal farcela Ma Purtroppo non cade giù Non so per quale motivo Ma Questo fottutissimo caddi Non vuole saperne di cadere giù Niente Quello è caduto? Ce l'ha fatta ragazzi No vabbè Bisogna andare allora lateralmente Ricompariamo Ricompariamo subito Bisogna andare ragazzi lateralmente Non ci dobbiamo buttare lì con ignoranza Cioè dobbiamo andare In maniera un po' più tranquilla Vai Qui l'ostacolo mi blocca Vediamo se posso andare Muoviti muoviti Ok mi hanno spinto Vabbè l'importante è che arriviamo lì Ok piano L'importante ragazzi è che arriviamo Stabili Vai Buttati Caddi Aspetta un attimo Vai Velocità Vai che è mio qui Vai che è mio Cadi giù Cadi giù E ce l'ho ragazzi Vai siamo passati Siamo passati Non esplodere Perfetto mamma mia Vai Fortunatamente ho visto quello Che riusciva a passare in questo modo Altrimenti sarebbe stato un problema Intanto siamo in Sesta posizione Quindi In tanti Devo dire che Ce l'hanno più o meno fatta Non sbandare Vabbè impossibile Qui ragazzi No vabbè impossibile Cioè sto coso sbandi In una maniera incredibile Va saltellando Sembra una molla Però La parte difficile L'abbiamo superata Questo è l'importante Piano piano Ok vai Qui ci sono Forse Ce la posso fare pure Senza andare veloce Almeno così Ci evitiamo I rimbalzi brutti Vai 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 Niente niente È caduto lo stesso Va bene Purtroppo ci sono pure i paletti Della luce Quindi È problematica La situazione E poi vedete Arrivano senza pietà Ragazzi Senza pietà Piano Ok Vai quello è caduto Ormai mi sa che è finito male Piano qui Piano 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 Vai perfetto Alla fine quello Era riuscito a rimettersi bene Anche qui ci sono Arriviamo ora al checkpoint Ok ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho E ora Abbiamo questa parte qui Va bene Cerchiamo di inserirci Via fatemi passare Ok ho superato quello ragazzi Mi sa che Siamo un po' arrabbiato No Non ci credo Mi hanno spinto giù Vabbè Ricompariamo Comunque siamo Siamo tutti qui ragazzi Più o meno La gara La stiamo facendo tutti insieme Sta durando veramente tanto Questa gara qui con i caddi Il mio perché si era bloccato Perché si blocca Dai Nelle parti invisibili Ti blocchi Mamma mia Vai indietro Vai indietro Ragazzi si è bloccato Ricompariamo Mamma mia Impressionante Io non lo so Non ho parole Non ho parole Per questo caddi Comunque cerchiamo di ripartire Questo qui fa la stessa fine mia Vedete non riesce ad andare avanti Vediamo un po' Ok passo io Calma qui No Non spingetemi Non voglio girarmi Si è bloccato di nuovo Ah praticamente Se vado troppo a sinistra Lui si blocca Comunque qui ci siamo ragazzi Intanto Alcuni hanno concluso E mi sa che dobbiamo muoverci Perché Dipende quanti giocatori concludono Puoi partire il tempo Io sinceramente Ora ragazzi Non voglio non concludere Quello dietro spinge È un bastardo Velocità Mamma mia Mamma mia Che brutta parte Quello è rimasto È rimasto lì Ok ti sta bene Questo è perché mi spingevi Ragazzi ci stiamo avvicinando Vai 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 Prendiamo il checkpoint È andata Manca solo il traguardo Ok ho preso la freccia Cadiamo nel buco Nel nostro tubo Ma come si fa Non concludere Come si fa Come si fa Come si fa Non concludere È impossibile Allora vediamo se cado Ora bene così Perché Con la velocità La freccia Non la posso prendere Quindi Deve essere un po' calcolato Mi sa che non ce la faccio Neanche Ricompariamo Ragazzi Vabbè Manco per concludere Neanche per concludere Ce la faccio bene Vai Ora abbiamo un po' di velocità Così ce la dovrei fare Così sì Così sì Ragazzi Dai che è andata Datemi la settima posizione Ce l'abbiamo Vai Atterraggio perfetto Ragazzi Abbiamo completato Una gara Veramente Assurda Una cosa indescrivibile Almeno dal mio punto di vista Perché Non è normale Cioè veramente Non è stata normale Guardate qui Questa è la parte più bella Lo scivolo Con il tettuccio Una cosa incredibile Questi qui purtroppo Non concluderanno Ragazzi Che direi Spero che il video Vi sia piaciuto Abbiamo giocato Questa gara Con i caddi Assurda Non ne giocavo Insomma Così Con i caddi Da veramente Tantissimo tempo Perché questi veicoli Sono molto Ma molto Sclerosi Insomma Alla fine Ho deciso Di giocarne un'altra 14 minuti di gara Io spero Che il video Vi sia piaciuto Quedexta Lasciate un bel mi piace E ci vediamo Al prossimo video